Ciao, sono Simone e vivo a Torino. Per me la città metropolitana dovrebbe collegare virtualmente e fisicamente tutti i cittadini, sia quelli del capoluogo che quelli dei comuni più vicini che quelli delle zone rurali, per sentirsi tutti parte di una grande comunità. Inoltre dovrebbe riqualificare le periferie degradate e migliorare i trasporti pubblici, così che noi giovani potremmo muoverci più liberamente e in sicurezza in tutto il territorio della città metropolitana, sia di giorno che di notte. Sono Ilenia, vivo a Torino da due anni e per me la città metropolitana rappresenta un'opportunità. Un'opportunità per studiare e lavorare in un contesto innovativo e interconnesso. Penso ad uno spazio urbano collegato alle aree rurali, dove poter vivere, crescere e lavorare. Penso ad uno spazio dove tutti i cittadini possano usufruire dei servizi in qualunque parte del territorio si trovano, non solo in città. Penso ad uno spazio in cui le autorità locali possano agire in connessione e possano creare quindi soluzioni comuni a problemi diffusi e diversi sul territorio. Per me la città metropolitana è un'opportunità per creare il mio futuro in un contesto europeo. Grazie a tutti.